Siamo sempre pochi intimi, quindi per la registrazione benvenuti al Get Letters Version on Air del 9 aprile 2019, quindi siamo più o meno riusciti a farne uno al mese, quindi riusciamo a mantenere una cadenza più o meno regolare e senza spendere troppo tempo sul chi siamo, ho semplicemente messo il cloud che abbiamo nel sito internet, nel nostro blog internet, giusto per far vedere e focalizzare il nostro gruppo su le keyword che noi normalmente mettiamo nel blog, ma che in generale poi sono tutte le funzionalità e tutte le cose di cui ci occupiamo, quindi vedete in grosso sicuramente Visual Studio LM, WSPS, poi il nome cambia molto spesso, adesso Azure DevOps, vedete Git, Team Foundation Service, eccetera eccetera, In realtà una parolina che qui è più piccolina è DevOps, ma siamo molto come gruppo focalizzati sul DevOps, siamo una community prettamente online, quindi sostanzialmente ci trovate nel nostro aggregatore del blog GetLettersVersion.it che ultimamente è popolato più spesso da Felice che da altri, Felice che oggi non c'è, non c'è online, e comunque sia siamo sostanzialmente, cerchiamo di organizzare anche, supportare alcuni eventi fisici, diciamo una volta all'anno siamo sempre riusciti a organizzare un evento fisico in Microsoft a Roma, sempre parlando comunque sia di application lifecycle management, Visual Studio Team Services, Azure DevOps, eccetera eccetera, e quindi andiamo a vedere di cosa vi parleremo oggi. Abbiamo le classiche tre sessioni da mezz'ora serali, pre-cena, e quindi inizieremo con Igor che esordisce nel GetLettersVersionOnAir con un deploy web application in IIS con PowerShell, argomento che a me piace molto, perché proprio poco tempo fa si parlava di MS deploy versus altre cose, ma il buon vecchio PowerShell è sempre un amico di mille avventure e consente di fare sempre tutto, per cui è interessante vedere come si può usare PowerShell per deployare applicazioni web in IIS, a cui a questa sessione seguirà il nostro caro amico Fabrizio che ci parlerà di Lifesite Culture nel Microsoft Product Teams e quindi avremo un, diciamo, un insight di come si vive nel Microsoft Product Teams e alla fine il nostro omnipresente Matteo ci farà, ci mostrerà un uso insolito di Azure DevOps, quindi ci farà vedere come Azure DevOps può essere usato in situazioni, diciamo, non canoniche, in questo caso si parlerà di Escalation Management e se non ricordo male l'abstract vedremo il Process Manager Basic, il nuovo Process Manager Basic di Azure DevOps, che consente appunto di avere un Process Manager, un processo, un template molto, molto minimale, molto semplice, che diciamo renda più veloce e più semplice l'adozione di Azure DevOps. Detto questo, visto che poi siamo in precena e non vorremmo sforare, per me enjoy the show e staccherei la mia condivisione e lascerei subito la parola a Igor con la prima sessione. Ok, grazie Gian, adesso inizierò a condividere il mio schermo, datemi un secondo. Ok, riuscite a vedermi? Sì. Ok, perfetto. Allora, inizio con la mia presentazione su IIS con PowerShell. È un argomento, come diceva Gian, sempre abbastanza caldo, in quanto molte persone, anche coloro che per le prime volte si avvicinano al deploy automatico, sicuramente si scontrano, se vogliamo, con questa necessità. Ovvero hanno l'artefatto che viene fuori dalla build e non sanno come portarlo su IIS. Farò vedere quindi alcune tecniche, comunque tradurrò alla tecnica principale che è solito adotto per, appunto, completare questo ultimo step e farlo in maniera molto molto semplice, in modo da poter controllare in ogni aspetto l'installazione delle applicazioni web sotto IIS. L'agenda è abbastanza breve e lineare. Il primo step è identificare in che punto ci posizioniamo rispetto alla pipeline. Poi passerò sicuramente a introdurre un po' i concetti base di IIS che ci servono appunto per impostare il nostro script PowerShell che appunto interagirà con ognuna delle parti coinvolte di IIS. Infine capiremo quali punti toccare effettivamente col nostro script e infine mostrerò con una semplice demo quali sono le potenzialità del modulo di IIS per PowerShell chiamato Web Administration. Infine una sessione di question and answer nel caso ci fossero domande. Innanzitutto definiamo un po' il glossario. Quindi con Artifact definiamo cosa? È qualunque pezzo dell'applicazione che in genere viene aggregato insieme agli altri appunto Artifact al fine di comporre l'applicazione stessa. Gli Artifact di solito vengono fuori dopo la fase di Build, quindi la fase di compilazione è vera e propria. All'interno della pipeline che ho stretto o comunque tagliato all'interno di questo grafico possiamo vedere che iniziamo con una fase di compilazione sicuramente. Quindi la prima parte su cui mi sono concentrato è parte dalla Build. All'uscita della Build sicuramente faremo degli unit test che ci permetteranno a fronte appunto di una batteria di test di validare quello che è venuto fuori dalla Build dopodiché con Artifacts validati ci posizioneremo nella fase di deploy vero e proprio ovvero quella fase che ci permette tutte le attività che ci permettono di portare l'applicazione all'utente finale. Una volta installata l'applicazione su IIS naturalmente andrà da sé che ci sarà uno smoke test che comunque in questa sessione non coprirò per il momento. In che ambiente ci muoviamo? Ci muoviamo sicuramente in un ambiente Microsoft Windows è giusto e doveroso specificarlo visto che con l'avvento di Docker e di container in generale non è sempre scontato ormai. Soprattutto perché AspNet Core, Node.js e altre componenti la fanno ormai da padrona e queste come sappiamo girano anche su ambienti Linux. Per cui questa sessione si concentrerà su un ambiente Microsoft Windows. Come prerequisiti, prima di partire vorrei che ci si concentrasse su questi punti. Quindi un processo automatico manuale se vogliamo dedito alla creazione degli stessi artefatti quindi un processo di build già in essere questo lo diamo per scontato. quindi partiamo da questo. Naturalmente può esserci anche un banale build manuale se vogliamo. Un server Windows quindi un ambiente Windows Server con IIS 7 o maggiore semplicemente perché il supporto a PowerShell inizia ad essere inglobato in IIS proprio dalla versione 7. Naturalmente nelle ultime versioni l'ultima è la 10 l'integrazione è totale. Per affinché i nostri script o comunque l'applicazione possa essere installata su IIS abbiamo bisogno di un amministratore locale come un account di amministratore locale sul server e un prerequisito che ci permette di interagire con il metabase di IIS. Adesso vedremo cosa vuol dire esattamente. In realtà l'account amministrativo ci serve per fare anche altre cose quindi stoppare application pool installare website aggiuntivi e così via ma andremo nel dettaglio a brevissimo. Naturalmente diamo per scontato anche che sul server su cui vogliamo far girare l'applicazione ci siano già installate le dipendenze quindi sia il runtime stesso dell'applicazione per esempio AspNet, .NET Framework, AspNet Core, Node.js indipendentemente dall'applicazione dalla piattaforma e il framework che diciamo l'applicazione su cui l'applicazione viene sviluppata. è naturalmente un minimo di conoscenza di PowerShell su questo potremmo anche sorvolare perché nella demo descriverò passo passo cosa ogni commandlet andrà a fare. Introduciamo subito un po' di concetti relativi ad IIS. IIS come vediamo è questa parte un po' più azzurrina in basso e diciamo la foundation di tutto quanto e con questo colore identifichiamo proprio il runtime di IIS. IIS stesso dalla versione 7 in poi inizia ad adottare un sistema di configuration molto simile a quello di .NET stesso e cioè l'uso di due file principali per la configurazione. Uno è l'applicationhost.config che definisce una configurazione per server quindi è la configurazione di IIS stessa. IIS ha una feature molto carina però ogni sotto applicazione quindi in un website possiamo avere una o più applicazioni identificate tramite appunto virtual directory possiamo specificare alcuni parametri specifici ancora per applicazione. questo vuol dire che se l'amministratore del server ha deciso che avete una certa configurazione a livello server che viene naturalmente ereditata dalla vostra applicazione l'applicazione stessa attraverso alcuni tag all'interno del web config può farne l'override. Non tutto può essere sovrascritto e a giudizio dell'amministratore decidere su quali sezioni su quali sezioni permettere l'override e su quali no. In questa demo in questa presentazione faremo in modo che le sezioni su cui si possono fare le override siano quelle di default quindi a macchina pulita. Ogni ambiente naturalmente può variare la sua configurazione dipendentemente appunto dalle esigenze di security dell'ambiente stesso. On top, quindi sopra il livello di astrazione o meglio di configurazione c'è un livello di astrazione che ci permette di configurare e gestire IIS attraverso diverse tecnologie. La prima che vediamo è la graphical interface stessa chiamata AIS Manager che è quella che usiamo di solito per interagire in maniera diretta con il web server di Microsoft. Questo si appoggia in qualche modo alle DLL interne ma non è l'unico modo per configurarlo. Ci sono vari layer di astrazione tra cui quella di WMI di ADSI che sono due Active Directory System Interface e infine ci sono dei provider che permettono l'interazione attraverso PowerShell e altri tipi di linguaggi come C Sharp di script o durante il setup di IIS è possibile includere anche degli script da command line che ci permettono appunto di pilotare e scriptare IIS in maniera diretta senza l'adozione di un linguaggio specifico se non quella della shell. Tornando a noi quali sono le componenti principali da configurare. Sicuramente abbiamo gli application pool poi come step successivo definiremo le web application e website muniti eventualmente di virtual directory ad esse connessi ed infine andremo a configurare alcuni parametri a livello di web server stesso. Definiamo un attimo cosa sono le application pool. IIS adotta un sistema di protezione sia a livello di affidabilità sia a livello di security abbastanza comune che è quella di accomunare scusate la ripetizione di accomunare una o più applicazioni sotto un unico processo che non è lo stesso sotto il quale gira il web server stesso. Questo vuol dire che lui detta all'Ionix fa uno spawn quindi una sorta di fork del suo processo e ne crea altri uno per ogni set di applicazioni. Affinché noi si possa definire quali applicazioni vengono accomunate sotto un unico processo ecco che definiamo appunto gli application pool. Gli application pool non identificano solo un insieme di applicazioni applicazioni web si intende naturalmente ma definisce anche una serie di comportamenti e di security ben precise. Adesso uscirò un attimo dalla presentazione e aprirò banalmente l'IIS manager così da identificare insieme quali sono le componenti e le le componenti e le proprietà dell'application pool. Un attimo solo ok ok questo è il sito che ho localmente come vedete il primo nodo sotto il mio web server sono proprio quelli il nodo relativo agli application pool ne abbiamo definiti alcuni qui vedrete alcune demo che ho fatto prima della presentazione ogni application pool quindi è un processo chiamato w3 wp.exe e definisce appunto alcune caratteristiche vediamo quali sono quali potrebbero essere su queste proprietà noi possiamo andare a giocare quindi a configurare a seconda delle nostre necessità la prima che vediamo in grassetto è proprio la versione del CLR quindi ogni processo all'interno del quale gireranno delle applicazioni verrà accomunirà la versione del CLR sotto il quale l'applicazione girerà in questo caso io ho configurato la versione del Donnet CLR 4.0 sorvolerò su un po' di su un po' di settings e proprietà per andare direttamente alla identity che è un punto cruciale nella configurazione dell'application pool l'identity in sostanza definisce qual è l'utente con il quale il processo dell'application pool stesso impersonificherà appunto l'esecuzione dell'applicazione ovvero con quale utente l'applicazione verrà eseguita sotto il nostro web server questo è importante perché dovremo tenere conto sia nel momento in cui andremo a definire le risorse e quindi le ACL relative alle risorse che toccheremo attraverso l'applicazione quindi file system oppure accesso a risorse di rete qualunque cosa parta dalla nostra applicazione lo farà attraverso questa identity naturalmente in ambienti enterprise nel momento in cui andremo per esempio su un database server andrà configurato un'identity con un'utenza di dominio piuttosto che network service che è una delle possibili scelte non andrei su local service o local system semplicemente per un problema di security application pool identity ha il vantaggio di cambiare l'identity ad ogni start dell'application pool quindi è un'identity dinamica se vogliamo ma dall'altra parte è di difficile gestione in ambienti distribuiti da dove non si può definire questa identity su altri server e come dicevo in ambienti di dominio o comunque con active directory magari ha senso identificare degli utenti di dominio specifici per ogni applicazione attenzione all'idle timeout che spegne l'application pool quindi uccide il processo dopo un ton di minuti di idle in questo caso dopo 20 minuti qual è il side effect è che l'utente dopo si accede l'utente dopo 20 minuti paga il pegno di start up del tempo di start up dell'applicazione quindi del processo anche qui c'è un recycle il concetto di recycle è semplice affinché non ci siano memori leak o comunque per prevenirli IAS mette a disposizione la possibilità di riciclare l'application pool ogni tot minuti naturalmente questo numero permette di averlo a intervalli regolari io di solito lo disabilito perché identifico una finestra temporale all'interno della quale identifico un orario buono per gli utenti ovvero dove gli utenti non abbiano necessità di accedere torno un attimo alla demo perché il tempo scorre in buona sostanza sotto sites identifichiamo i due i n site che adesso andrò a cancellare così da farvi vedere una situazione pulita ogni site ogni site identifica appunto una o più applicazioni come in questo caso abbiamo un website che accomuna altre proprietà quindi ogni website è identificato sicuramente da un application pool ovvero appartiene è un'applicazione di questo application pool e ha dei protocolli a cui risponde i protocolli a cui risponde in realtà si definiscono attraverso quelli che sono i binding i binding sono l'insieme dei protocolli assegnati ad un specifico site quindi se volessimo installare più di un sito dipendentemente dall'host header dipendentemente dall'host header al quale deve rispondere possiamo farlo installando più site sulla stessa porta oppure aggiungendo un binding sul protocollo HTTPS per esempio specificando il certificato che vogliamo a cui vogliamo che risponda a quel sito adesso cancello l'applicazione e farò vedere lo script vero e proprio allora passo e iniziamo spero sia visibile abbastanza chiaro altrimenti switch a un editor un po' meno colorato un po' più visibile vediamo un attimo questo script cosa fa lo script che ho anche pubblicato su github non fa altro che a fronte di un path fisico sul quale c'è già il binario della nostra applicazione e a fronte di un nome di un sito che possiamo eventualmente specificare lui installa e si preoccupa di andare a impostare tutto ciò che è necessario finché l'applicazione stessa funzioni vediamo un attimo quali sono gli step principali poi andremo eventualmente nella nelle singole funzioni sicuramente iniziamo con risolvere il path se dovesse esserci un path relativo questo momento lo risolio quindi diventa assoluto se esiste continuerò nell'esecuzione quindi identificherò un nome per l'application pool che per convenzione sarà nome del sito più il suffisso app pool a questo punto faccio un clean up affinché il tutto sia idempotente non farò altro che cancellare eventualmente il sito se c'è già se è esistente andando avanti cancellerò anche gli application pool esistenti l'ordine è importante perché se dovessi cancellare prima l'application pool rimarrei con delle applicazioni orfane orfane di application pool che andrebbero comunque nel default ma questo non vogliamo che succeda quindi procediamo con l'ordine corretto quindi prima il website poi l'application pool poi aggiungiamo finalmente l'application pool perché prima di poter creare un'applicazione dobbiamo avere il nostro application pool attraverso questa funzione che vedremo a breve cosa facciamo aggiungiamo il specifichiamo il nome dell'application pool appunto e l'orario al quale vogliamo che venga riciclato quindi ho identificato per ipotesi che a mezzanotte un quarto non ci siano utenti che potrebbero soffrire del riciclo infine che facciamo identifichiamo la cartella padre dell'applicazione quindi la cartella fisica padre dell'applicazione vera e propria e nello specifichiamo come root path del del site quindi il site punterà alla cartella padre dell'applicazione che vogliamo installare l'applicazione che è scusate il site perdonatevi che avrà un suo application pool che ormai abbiamo già abbiamo già identificato e creato il path ce l'abbiamo e un nome che ci è stato passato come parametro infine come ultimo step creiamo proprio una virtual directory che verrà installata sotto il sito appena creato avrà un nome fisso qui mi sono inventato glv web app quindi il sito è questo qui e il path sarà quello che ci hanno specificato l'application pool ancora una volta è quello che abbiamo creato come ultimo step configureremo alcuni parametri a livello server cioè abiliteremo la compressione dinamica dei file ovvero laddove ci fossero dei contenuti dinamici che non possono essere staticamente memorizzati su file system IOS si preoccuperà di farne una compressione gzip in modo da ridurre la banda occupata è qualcosa che viene fatto ormai di default perché senza di questo non ci sarebbe le applicazioni sarebbero molto molto lente per convenzione comunque abilito anche la compressione statica sebbene nell'installazione di default viene quasi sempre abilitata anch'essa di default andiamo a vedere un attimo quali sono le funzioni un po' più interessanti quindi andremo nell'add application pool quindi questa funzione PowerShell non farà altro che aggiungere a fronte di un nome di application pool e un recycle time creerà attraverso questa commandlet del modulo web administration che ricordo essere stato importato come prima istruzione dello script quindi importiamo il modulo web administration e iniziamo a lavorare quindi una volta creato l'application pool a cui passeremo il nome andremo a impostare alcune proprietà tra le quali il managed runtime version la pipeline la pipeline indica la modalità con la quale si integra con ASP.NET quindi se è integrata totalmente oppure la modalità classic andrebbe a funzionare come ISA o precedenti a questo punto impostiamo il recycle time quindi a che ora deve riciclarsi e spegniamo la necessità di farlo ogni tot minuti di solito spengo anche l'idle timeout sebbene questo in ambienti in ambienti cloud non è consigliatissimo infine è imposto il modello di security quindi l'utente su network service andiamo a vedere velocemente anche website è un'altra commandlet interessante new website a cui passo il nome da website la porta in questo caso 80 il path fisico e l'application pool che in questo caso è quello che abbiamo appena creato e quindi sarà passato il nome come parametro qui c'è un minimo di gestione dell'errore ma niente di più attenzione quando andiamo a creare l'applicazione web cosa andiamo a fare andiamo a crearne una specificando il nome specificando ancora l'application pool il path fisico e oltre che il sito sotto il quale dobbiamo farlo dobbiamo anche fare una cosa molto importante a livello di file system dobbiamo garantire attraverso questa funzione che mi sono scritto andiamo a garantire la security a livello appunto di file system stesso all'application pool a un identity che si chiama proprio IIS app pool slash nome dell'application pool quindi a livello di sistema operativo avremo addirittura un identity di security che ci permette di identificare e di astrarre dall'utente con il quale gira l'application pool come vedete qui non ho specificato network service ok quindi ho specificato banalmente il nome dell'application pool come dicevo prima la configurazione a livello server è l'ultima delle cose che faccio facciamo una demo velocissima come vedete qui è tutto vuoto posso anche cancellare questi application pool perché inutili a questo punto lanceremo questo script che non fare altro che creare un website che si chiamerà glv on air site 2 o site se volete e ho creato una piccola applicazione praticamente il template dell'applicazione Aspnet mvc di microsoft con qualche customizzazione lo lanceremo come vedete lui che cosa fa crea l'application pool dopodiché crea il site e dopo che ha creato il site crea l'applicazione quindi la virtual directory che si chiama glv web app ok andiamo a vedere in IIS cosa è successo facendo un bel refresh innanzitutto mi ha creato un application pool che si chiama glv on air site app pool e poi mi ha creato un site dato il quale ho questa bella applicazione il site innanzitutto come vediamo l'application pool gira command and service come abbiamo detto poi a livello di compression abbiamo le compressioni dinamiche abilitate e infine andiamo a vedere che con un bel browse se la demo ha funzionato dovrebbe apparirmi la demo o meglio la pagina che ho sviluppato appunto con qualche customizzazione per non metterci proprio nulla per metterci qualche customizzazione appunto sul sito stesso direi che ho terminato una piccola chicca che forse vi aiuterà con gli primi passi quando io importo il modulo web administration io mi ritrovo con un drive in PowerShell che si chiama IIS sul quale posso navigare come fosse una cartella vera e propria a livello root abbiamo gli application pool e i site quindi se andiamo a livello di site facciamo una bella dir at web site dovrebbe darmi qualcosa quindi clv on air site ok ok mi dà appunto le informazioni di binding e così via insomma da qui riuscite comunque a tirar fuori delle informazioni che magari senza la conoscenza delle commandlet potete navigare tranquillamente ad esempio di qui potete capire a quale application pool appartiene una certa applicazione e così via credo di aver finito vi do due reference quindi a parte un piccolo repository github sul quale ho messo quello script pubblicherò a breve queste slide su questo slide share e la reference per il modulo web administration lo trovate sui docs di microsoft ci sono domande a breve Grazie a tutti.